L'antico castello del Signore di Tricano, che da secoli si erge a guardia del territorio circostante, sta all'origine del nome di rive d'Arcano. Tutto intorno una natura ricogliosa e panorami di una bellezza incomparabile. Il profilo ondulato delle colline rivela continuamente limpidi corsi d'acqua, boschi e prati verdi. Più a sud la pianura si apre alla coltivazione dell'uomo. È da queste colline che si traggono vini dal sapore intenso e vivace, con le tecniche più moderne, ma nel rispetto degli antichi saperi. È qui che si coltiva la vite, nel totale rispetto della natura e dell'uomo, e si produce un vino biologico che riposa per mesi e mesi nelle cantine del castello, prima di essere assaporato. E biologico è anche il pane che qui si produce, a partire dagli ingredienti, sani e naturali, fino alla cottura, che avviene all'interno di forno rigorosamente a legno. Cose semplici, naturali, perché la natura a rive d'arcano è parte di te.